Lorenzo Filippini, Bari-Frosinone 4-0, come è andata? È stata una buona partita, abbiamo fatto bene, per fortuna siamo tornati alla vittoria davanti al nostro pubblico e siamo contenti. Senti, come giudichi la tua prestazione? Sono contento della mia prestazione, è una partita difficile, penso di aver dimostrato di meritare tutto quello che sto avendo e sono molto contento della mia prestazione, ma in generale quella della squadra che è la cosa più importante. La tripletta di Bagua come la giudichi? Siamo contenti per Giulio perché è un attaccante molto forte, che dà una mano alla squadra e quando i gol arrivano è tutto più semplice. Il mister che vi ha detto negli spogliatori? Il mister era contento, però ci ha detto di tenere bassa la testa, di continuare a lavorare perché questa è la strada giusta, però bisogna tenere bassi gli entusiasmi perché abbiamo appena iniziato e dobbiamo continuare su questa via. Grazie. Grazie.